RINASCERE Pochi sanno cosa vuol dire rinascere come un Sense8. Che cosa? L'hai vista. È solo il principio. Riesco a sentirti. Non sei veramente qui, giusto? Non sei più solo tu. Comincerai ad avvertire delle cose strane. Vorrei rabbia, gioia, dolore, piacere, senza alcuna ragione. Hai altri sette te stesso. Tu puoi accedere alla conoscenza degli altri, alla lingua, alle capacità. Aiutami. Sarai perseguitato. Non c'è più tempo. Devi correre. Sto portando la ragione. No. Si sta espandendo. Grazie a tutti.